e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su animen un gioco che ieri ho installato un po bellissimo allora ragazzi e questo sarà il primo video nel canale su questo gioco giochiamo facciamo caricare il nostro animen perché gli ho ricaricato le armi so dove un elicottero per uccidere gli altri dall'alto e riusciremo non lo so dobbiamo cercare ovviamente di prendere una macchina per andare sull'elicottero ragazzi ieri dovevo lavorare armi sì allora se no di queste 90 che benissimo allora ho un'arma 90 colpi su questa ho visto un'auto libera non allora dobbiamo trovare un'auto e eccola non avevo manco notata ero qui saliamo sull'auto sull'auto no non ne volevo dare un calcio io voglio entrare nella macchina ecco ho detto un calcio alla mia macchina ma adesso ci entro ragazzi allora siamo dentro l'auto ma dovrebbe essere forse da questa parte che stava no 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 fermi 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 forse l'ho ritrovato aspetta no che sta succedendo è lì è lì no fermi non si sta capendo niente non ci riuscivo oh bravo bravo così 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 adesso adesso vai in avanti adesso vai in avanti 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 no da l'altra parte perché questo al contrario no 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 sali 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 no si no ragazzi ma che video vabbè ragazzi proviamo a non andare senza auto iniziamo a salire vediamo se è qui che si trova l'elicottero ecco ci siamo e da qua si scende credo che dobbiamo continuare da questa parte ragazzi saltiamo sì e andiamo ok ragazzi credo che sia qui l'elicottero continuiamo ragazzi può essere che non è qui non sto capendo allora facciamo così saltiamo no ho sbagliato ho sparato adesso è un colpo in meno allora ragazzi eccolo è lì dobbiamo fare ok avevo solo sbagliato strada mi sembrava strano che non c'era allora passiamo da qua sotto siamo dei nani possiamo passare da qua sotto ragazzi attenzione saliamo su questa rampa saliamo 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 e poi vedrete che sarà un elicottero fighissimo eccolo 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 lì ragazzi saliamo 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 adesso possiamo per lo strange sia tutta la mappia sia uccidere praticamente tutti allora no 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 io voglio entrarci No, non devi sparare Andiamo a entrare nell'elicottero Allora, stiamo salendo sull'elicottero ragazzi 3, 2, 1, decollo Attenzione, stiamo per decollare Sta partendo Attenzione Eccoci, siamo decollati Attenzione Oddio Abbiamo l'elicottero raga Dove stanno gli altri avversari? Oh, dove stanno? Eccone uno Andiamo a uccidere quella moto Vieni qua, motorino Vabbè No, non ho mancato Stieni l'elicottero, elicottero Elicottero No No Vieni qua, eh Vieni qua, devo volare basso, devo volare basso Devo volare basso Vai No Non riesco a più No Allora ragazzi, siamo proprio quasi su terra Se andiamo ancora di più E siamo su terra Ok, così voleremo basso ragazzi Oggi voleremo basso Perché dobbiamo uccidere quel motorino che ho perso Andiamo ad altri Andiamo ad altri Stai cadendo Oddio Sono atterrato Sono atterrato raga Sono atterrato amici Vabbè, allora adesso scendiamo Stai l'elicottero No, perché? Io voglio girare la visuola e tu mi spari Non ho capito Oddio Mi è caduto l'elicottero? Qui Corri Allora Ok, sto cercando di sparare la macchina Come vedete Guardate Guardate Sì, ok, la sto rovinando Però adesso Cinque colpi Ora No Sì, altri 90 Sì, ragazzi Oddio Ho distrutto la macchina Ho distrutto la macchina Cioè ragazzi Ho distrutto la macchina Ho ucciso l'avversario Incredibile Incredibile ragazzi Incredibile Non ci posso credere Ho ucciso un avversario Adesso ragazzi Vabbè Intanto qua non ho notato Perché ho sprecato i colpi Chi è lì? C'è un avversario Ragazzi Ragazzi Vi sto sparando Oh, stiamo sparando A quel ragazzo Pensavo che sia stato lui Corri ragazzo Alla giungla Ah ragazzo Vieni qui Sì, ti sparo No Vai Devo ricaricare Devo ricaricare 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 Adesso No In basso Mira in basso Perché non va? Devo avvicinarmi Se no Non ce la faremo male Sta scappando Vai No ragazzo Ragazzo Vieni qua Ti spero Eccolo 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 Ti spero No Dove sei? Ti inseguirò Oddio Questo ragazzo È davvero Ma anche Invecilo Guardate No Ma non ci credo Non riesco a Ciao ragazzi Ti lascio Io me ne vado Raga Davvero Io me ne vado Ok mi sono fatto Ricaricare Vabbè raga Andiamo sulla macchina Dai Non so cosa fare Andiamo sulla macchina Ok Stavolta Dobbiamo guidarla Ok Via Ok 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 Io me giochi Era il master Di guidare la macchina Guardate lì Che macchina di lusso Andiamo ad investire Vai Boom Oh no L'ho mancata L'ho mancata Torna indietro Torna indietro Torna indietro Torna indietro Che ho mancato Eccola Eccola Vai avanti Avanti No Sto mancando Sto mancando Eccola Va indietro Va indietro Va indietro Va indietro Girati 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 Eccola 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 sì sì abbiamo presa indietro 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 si abbiamo presa gira 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 dai vai 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 no perché era perfetto perché gira l'ultimo secondo eccola si eccola gira gira vai ore che l'ho presa l'agganciata e distrugga via di cui a cavolo ragazzi credo che lei è più potente dire mi sta fermando attenzione ragazzi è scappata non ci vedo non ci credo no sì sì che è cappottata e sì e sì ora uccideremo questa macchina ho già infuocata vieni qui e l'ho fatta saltare in aria ancora ancora ragazzi ancora sono un pro di questo gioco allora attenzione quella macchina è decappottata devo farla fuori vai così si sta incendiando e dai la facciamo fuori sono caduto a terra raga che è successo mi sa che sono raggiunto un nuovo livello allora ragazzi abbiamo avuto l'impatto abbiamo spaccato qualche macchina il quale ragazzi non lo so ragazzi non lo so ragazzi oh mi ha devastato ma che ma che ma che oh oh e calmati 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 ho pochissimo di vita no vai ci di chi la l'ho chi la l'ho qui 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 questo questo no no raga ho pochissimo di vita oh che stai facendo polizia mi hanno ucciso vabbè raga dopo la morte il video finisce qui spero che vi sia piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale a questo video è tutto ciao 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 ciao